Carina, diventi tutti i giorni più carina, dal fondo resti sempre... Ben ritrovati nel nostro salotto di Angoli, come sempre siamo in diretta. Vi dico che avete fatto non bene, di più ad aspettarci, perché abbiamo una seconda mezz'ora di puntata tematica. Adesso ci arrivo a spiegarvi di che cosa parleremo. Prima, come sempre, i nostri contatti, angolichioccio, l'espansionetv.it. Questo è l'indirizzo email per scriverci, per chiederci informazioni, magari per, non lo so, qualsiasi curiosità. La musica, sapete che potete sceglierla? Beh, ogni tanto riceviamo qualche indizio sui vostri gusti, mandateceli liberamente. Vi ricordo anche che, se mai perdeste le nostre puntate, c'è sempre il canale YouTube, no? Quindi andate a visitare il nostro sito di espansione, www.espansionetv.it, Angoli, e vedete tutte le puntate che vi siete persi. E allora, vi ho detto, puntata, seconda parte della puntata tematica, viaggiamo. Quanto ci piace viaggiare e quanto ci piace farlo in compagnia di Press Tours. E allora, ma che bello ritrovare nello studio Moreno Rognoni, buongiorno. Ma che bello essere nuovamente qui con voi. Sei felice? Io sono sempre molto felice, a parte che oggi Como è una giornata assolutamente strepitosa. E c'è un sole. Valeva già la pena fare il viaggetto con le ferrovie a nord per arrivare qui per godere del panorama. In più, veramente, voi qui siete una famiglia ormai, veramente. Guarda. Tu poi sei in uno spettacolo, quindi... No, no, ecco, sempre questa cosa a tradimento che poi io arrossisco. Ti ringrazio da parte di tutti perché, insomma, a noi piace, è vero? Oramai si è creata questa sintonia. Noi non vediamo l'ora di ascoltare tutte quelle che sono le vostre novità perché, insomma, ci piace viaggiare con il pensiero e invogliare chiunque stesse cercando la vacanza perfetta, insomma, a trovare i contatti giusti. Ricordo che sei il responsabile commerciale di Press Tours. Noi ci vediamo da un po' di tempo, però magari oggi ci segue qualcuno dal nulla, no? Quindi che ti vede per la prima volta. Ricordiamo quali sono le peculiarità che fa di Press Tours comunque una realtà veramente dinamica, veramente seria e affermata. Sì, senza fare veramente lo spottone pubblicitario che non è il caso, però, come dire, Press Tours è una di quelle realtà all'interno del mondo dei tour operator in Italia. Quest'anno festeggiamo 30 anni di attività, di onorata attività. Compleanno allora. Sì, esatto, molto presenti per quanto riguarda un certo tipo di programmazione, noi ci occupiamo di tutto quello che è programmazione sul Mar dei Caraibi, su tutto il continente americano, sull'Oceano Indiano e dall'inizio di quest'anno anche su Africa australe orientale. Quindi destinazioni molto in là, diciamo, rispetto all'Italia, ma da 30 anni con un occhio molto a quello che sono anche la valorizzazione, il rispetto dei territori, delle persone che si vanno a incontrare, la scelta delle strutture alberghiere che non è solo esclusivamente, come dire, per un puro divertimento classico, stile all inclusive, Italian style, quei villaggi dove un po' tutti si intruppano e via andare, ma anche una situazione molto proprio legata ai territori, alle diversità che ogni singola realtà caraibica, messicana, piuttosto che centroamericana, eccetera, può offrire e può dare a livello di emozione. Quello che noi speriamo è che i nostri clienti, oltre ad andare a trovarsi bene e comunque godere di un viaggio e di una vacanza, secondo le proprie voglie di viaggio, secondo i propri gusti, eccetera, torni a casa, ecco, non carico di banalità con le quali magari è partito. È vero. Perché un viaggio, secondo noi, vale la pena farlo, se quando torni sei un po' cambiato rispetto a quando sei partito. Sei un po' più ricco di quando hai preso le valigie, ti sei, insomma, caricato, autocaricato su un aereo e hai volato lontano, no? Esatto. No, perché hai detto una cosa bella, hai detto, insomma, si va in posti dove ci sono e devono esserci, bisogna trovare delle cose diverse, perché andare per trovare magari una finzione della nostra Italia, trovarla all'estero, insomma, non è quello che cerchiamo, no? Per quello esistono anche in Italia, piuttosto che in Europa, i grandi parchi tematici, uno può andare, come dire, no, vuoi dormire con Topolino, con Pluto, piuttosto che ci sono, va bene. Dopodiché il mondo è bello perché è vivo, cioè esiste una cultura viva in questi posti, stiamo guardando, per esempio, immagini di Antigua nello specifico, ma un po' di tutto quello che è l'arcipelago del Mar dei Caraibi, 30 isole che compongono i Caraibi, una completamente diversa dall'altra, perché una diversa dall'altra è la storia. E la diversità e ricchezza anche per il viaggiatore, questo deve essere. Così, un po' in generale come un mare, io, ad esempio, insegno anche quello che è turismo sostenibile, e ai miei studenti dico sempre, se prendiamo un mare, questo mare è pieno di tonni, secondo voi un mare vivo è un mare morto, no? Da Quito è un mare molto vivo, no, è un mare molto morto che sta tendendo a morire, perché la vera ricchezza è la biodiversità, in qualsiasi cosa, così come la biodiversità della flora e della fauna, idem la biodiversità delle culture. Allora, quando riusciamo a trovare, come dire, degli agganci con altre culture, vuol dire che abbiamo fatto bene. Noi, come troppo erete, il nostro mestiere, le agenzie viaggio hanno fatto bene il loro mestiere di intermediario nella vendita al cliente, e il cliente ha fatto bene il suo mestiere di cliente. Allora, visto, prima di ritornare alle immagini di Antigua, perché poi su Antigua abbiamo tutto un mondo comunque da raccontare, voglio ricordare anche il sito internet, perché il sito internet è di Prestours, che è prestours.it, www prima però l'avete visto scritto, l'ho dato tutto spaiato, www.prestours.it, è molto dinamico, io prima ho usato questa parola perché comunque lo è anche il sito, e come potete vedere tutti i simbolini, siete effettivamente rintracciabili su tutte le piattaforme di social, quindi raccontaci perché è questa scelta comunque. Ma sicuramente la scelta da alcuni anni a questa parte di essere molto presenti su tutti quelli che sono un po' i social media, i social network, che dir si voglia, non è solo in funzione, come dire, di essere raggiunti dal numero, di essere ovunque presenti, tanto per essere presenti, ma per fornire molte, molte informazioni. Quello che noi ci teniamo molto, oltre a cercare di vendere bene, proporre bene i nostri programmi di viaggio, costruire su misura, secondo i tempi, budget, le voglie di viaggio che ogni cliente ha, è quello anche di dare informazioni. Oggi la vera differenza sta nel fornire informazioni che siano il più possibile autentiche, certificate, noi lavoriamo moltissimo con gli enti del turismo dei rispettivi paesi, proprio per dare continuamente quelli che vengono tecnicamente chiamati WhatsApp, cioè quello che accade in destinazione, quello che possono diventare motivi di viaggio per un viaggio futuro. E allora, visto che di viaggi futuri, ma proprio nell'immediato, c'è chi sta cercando nuove idee per le vacanze di Natale, sono qui, sono imminenti, per qualsiasi voglia di viaggio, insomma, Antigua, mi sembra risponda a diverse esigenze. Stiamo guardando delle immagini e io ti ringrazio per portarle ogni volta, perché ci fai veramente sognare, ci porti idealmente, insomma, in quella che potrebbe essere la nostra vacanza, che poi diventa realtà, no? Allora, Antigua perché? Ricordiamo che è anche raggiungibile comodamente dal nord Italia, vero? Tra l'altro dal 23 di dicembre, noi come Presturse, siamo il primo operatore per numero di passeggeri già da quattro anni su Antigua in generale e gestiamo buona parte di un volo diretto della Blu Panorama che comincia questa domenica il 23 di dicembre e andrà avanti tutte le domeniche a volare fino praticamente a metà maggio. Da Malpensa, se non sbaglio. Da Milano Malpensa, esatto. E quindi, come dire, questo ci gioca molto, fa molto gioco per le partenze, diciamo, dal nord Italia. Dopodiché Antigua è una di quelle mete molto ben servite da molte compagnie di linea, penso British Airways, eccetera, per cui via Londra si può andare direttamente oppure via Stati Uniti con qualsiasi volo di compagnia europea e americana facendo anche un itinerario negli Stati Uniti e poi scendendo con due ore e mezza o tre ore di volo su Antigua. Insomma, Antigua si può combinare molto bene ed è assolutamente un'isola al di là della bellezza in se stessa di Antigua molto ben ubicata rispetto al Mar dei Caraibi perché è proprio nel centro del Mar dei Caraibi. Quindi è comodamente raggiungibile qualsiasi altra isola e si può anche pensare e dico io faccio un po' di giorni ad Antigua e poi raggiungo gli Stati Uniti? Oppure Stati Uniti più Antigua Antigua Stati Uniti oppure Antigua più per esempio un'altra isola dei Caraibi faccio un esempio molto banale che è Antigua più Guadalupa Antigua è un'isola di colonizzazione inglese si guida a sinistra si beve il tè alle 5 si parla inglese e quindi c'è un certo modo di comportarsi e di vivere alla vacanza. 15-20 minuti di volo con un volo della Liat che è la compagnia interna di Antigua che collega tutti i Caraibi centrali e meridionali sei in Guadalupa in Guadalupa guidi a destra parli francese mangi le ostriche ed ecco messa sulla costa azzurra il tutto lì quindi il bello dei Caraibi che io invito sempre è quello di come dire mischiare questo tipo di sensazioni perché è una vacanza estremamente molto ricca molto che ti porta dentro svarioni anche come dire mentali perché veramente in 15 minuti di volo tu hai un altro mondo situazioni completamente differenti è un po' un microcosmo i Caraibi che rappresenta un po' tutto il mondo ma ti senti di consigliare questa vacanza io penso si stiano ingolosenti in molti guardando le immagini a me cascala continuamente l'occhio perché ci sono delle spiagge un mare comunque dei posti faccio solo un accenno su Antigua Antigua è conosciuta internazionalmente perché viene chiamata l'isola dalle 365 spiagge effettivamente non ne ha 365 ma 360 tutte sono tutte spiagge pubbliche caletteri entranze mezzelune baie spiagioni di centinaia di metri sabbia bianchissima Antigua ha sua sorella che è Barbuda che è un'isola completamente quasi disabitata poco meno di mille abitanti a Barbuda spiaggia rosa perché è il corallo che si è frammentato rosa ed è un tripudio veramente della natura del silenzio del mare è questo che vediamo nelle immagini e soprattutto Antigua è bellissima da un punto di vista di gente 80.000 persone la maggior parte chiaramente di origine africana una religiosità gioiosissima gospel ovunque voglia di vivere di rapportarsi con i clienti con i turisti vacanza per tutti sia famiglie con bambini assolutamente coppie per tutti assolutamente sì per coppie per viaggi di nozze per gruppi di amici per gente che vuole lusso estremo per gente che con un tre stelle si accontenta ma trova poi il modo di viaggiare noleggiare un'auto l'isola è lunga è larga 40 km quindi la vivi molto bene ci tengo a dire perché l'ho vista ed è una cosa emozionante molto viva anche da un punto di vista di società civile c'è nel centro di Antigua un'associazione di carattere chiaramente una lusso fondamentalmente che si occupa della salvaguardia dei muli e degli asini per cui se tu hai un bambino vai lì dai un'offerta 5 dollari per dire eccetera ti danno anche la maglietta e puoi dare sostentamento a 100 asinelli che brancolavano nell'isola e vengono invece aggruppati lì e tenuti e curati cioè c'è molta attenzione su quello che è il valore dell'isola da un punto di vista umano o animale insomma io ve lo dico ancora prendetene nota www.prestours.it perché magari siete in fase di partenza anche all'ultimo non sapete dove andare è la stagione giusta? è assolutamente la stagione ideale i Caraibi questo tipo di Caraibi del centro del sud dei Caraibi il nostro inverno è anche il loro inverno il che vuol dire è che c'è meno umidità ci sono 27-28-30 gradi un bassissimo tasso di umidità ed è il clima assolutamente ideale anche per il mare Antigua tra l'altro da un punto di vista anche di chi vuole giocare a golf chi vuole andare a cavallo chi vuole fare barca a vela è l'optimum in assoluto ai Caraibi allora Moreno io intanto per questa per averci ingolosito su Antigua ti ringrazio sai che adesso c'è la musica come sempre sono qui apposta e sai anche che io ho taciuto però da casa ho sentito delle vocine che dicevano ma di solito non viene con Danny lui allora io ho come dire un compagno di viaggio che è Danny Virgillo che è una delle più belle voci radiofoniche italiane lo tengo sempre a dire con il quale facciamo tante cose insieme abbiamo fatto cose insieme e nella seconda parte vedremo che cosa abbiamo combinato insieme allora arriva Danny Virgillo arriva sta parcheggiando ok benone allora rimanete con noi ascoltiamo una canzone quella che permetterà a Danny Virgillo di raggiungerci in studio ascoltiamo insieme Celebrate Mika e poi siamo sempre qui a parlare di viaggi Celebrate Mika e dunque siamo lieti di dirvi che durante il momento musicale Danny Virgillo ha trovato il posteggio e dunque qui in studio con noi buongiorno Danny complimenti per la scelta buongiorno buongiorno a tutti per una volta ti è piaciuta la canzone che ho scelto beh no no mi piacciono sempre le sue canzoni in questo caso mi ero accorto che era un po' più attuale rispetto alle altre volte oggi è così noi ci andava di sentire musica un po' allegra un po' che ci tenesse su dopo tutto si prestava al nostro argomento trattato in studio insomma ricordiamo tu sei conduttore radio tv ti ha fatto una bellissima presentazione già a Moreno quindi non vorrei ripetermi che non la farei così bella però ti dico sei un grande amico di Presturso sono lieta di riaverti qui bene anch'io molto contento di tornare qui con voi con Moreno ripeto lui è uno dei più bei compagni di viaggio aiuto che si possa avere veramente in generale al di là del viaggio sì sì immagino perché voi avete una sinergia tale che vi porta a fare dei progetti bellissimi ma di cui parliamo fra un attimo perché Danny appunto con questa sua capacità la voce è bravissimo anche con le persone a parlare perché io ho visto e dopo lo vedremo e insomma l'avete messo sotto e le avete fatto produrre insomma delle cose pazzesche assolutamente bene grazie comunque oggi pensavo fosse una giornata così così invece mi sto raccogliendo ti abbiamo ospitato per non farti dire niente e farti noi un sacco di complimenti sei felice? posso tornare anche domani sì ti ritagliamo comunque dieci minuti non temere arrivo da te fra un secondo solo Moreno parlavamo poco fa di Antigua però ricordiamo anche che sempre nell'ambito insomma siamo in zona caraibica Cuba c'è stato un bellissimo progetto che ha coinvolto Cuba e un fotografo mi racconti un po' che proprio in un minuto tra settembre e ottobre abbiamo organizzato una mostra fotografica a Trieste in occasione tra l'altro della Barcolana la mostra fotografica con delle gigantografie di foto effettuate scattate da Gabriele Crozzoli che è uno dei fotografi italiani più conosciuti ma anche a livello internazionale ha pubblicato una ventina di libri fotografici insomma una persona vediamo queste immagini che sono proprio tratte dalla mostra fotografica quindi dallo shooting fotografico abbiamo mandato giù Gabriele per una settimana ha fatto quasi 3-4-5 mila foto è tornato e all'interno del Palazzo della Questura di Trieste abbiamo esposto una trentina di gigantografie che hanno avuto veramente un grandissimo successo tant'è che adesso a gennaio mi telefonava stamattina Gabriele saremo anche all'aeroporto di Trieste poi a Venezia poi andiamo a Roma diventa itinerante la mostra diventa una mostra itinerante perché volevamo trasmettere un concetto di Cuba al di là della banalità del mare della spiaggia chiaramente Cuba ha dei mari e delle spiagge tutto al plurale tra le più belle eccezionali al mondo poi ha un'umanità vediamo qui queste foto che trasmettono quello che è veramente l'alma di Cuba il cuore di Cuba l'anima di Cuba mi chiedo come abbiate fatto perché deve essere stato un passaggio difficilissimo scremare le 2000-3000 fotografie e arrivare a prenderne 30 questo se ne è occupato chiaramente Gabriele Crozzoli anche perché lui è veramente una persona estremamente abile nel fotografare ma soprattutto ha un animo ma anche molto artistico e quindi lui noi come Presturse e voglio anche ringraziare l'ufficio del turismo di Cuba a Milano la direttrice Aleida Castellanos abbiamo messo insieme volontà, passione, soldi e tempo e abbiamo organizzato questa cosa che ha avuto un ottimo successo dal quale noi siamo estremamente veramente molto molto ancora orgogliosi e carichi tra l'altro questo video lo potete vedere anche sul nostro YouTube sulle pagine YouTube di Presturse potete vedervi tutto il video quindi vale sempre www.presturse.it vi abbiamo fatto vedere nell'home page ci sono tutti i bottoncini i link per andare sulle varie piattaforme c'è anche quella di YouTube lì trovate il video completo però la mostra è itinerante quindi saprete che magari capichiamo anche per come non sarebbe male infatti non sarebbe male affatto e ne parliamo e ne parliamo troveremo il modo per capire se riusciamo a portarla anche qui a Espansione TV allora questo canale YouTube Benone arriviamo però da Danny perché insomma quando parliamo di Repubblica Dominicana noi ci ricordiamo perché sei già stato nostro ospite tu ne hai un legame particolare partiamo da questo sì siamo stati a fare un viaggio che noi abbiamo documentato con delle riprese molto emozionante perché io non mi aspettavo di trovare un posto del mondo così tecnologico e allo stesso tempo così bello le due cose magari non vanno spesso di pari passo e loro per esempio hanno il wifi ovunque vero? noi qui abbiamo sempre il problema dobbiamo sempre agganciarci invece loro hanno la metropolitana c'è molta gente che magari pensa a Repubblica Dominicana come un posto sì Caraibi ma Santo Domingo è una capitale veramente molto florida molto ricca quando sei stato l'ultima volta? dieci giorni no? sono stati dieci giorni sono stati io ho lavorato da Milano coordinavo la cosa tu coordinavi da lontano esatto un po' la cabina la regia di cabina eccetera ma all'inizio di settembre è andato giù con 20 agenti di viaggio che abbiamo selezionato diciamo un po' in giro per l'Italia i nostri migliori agenti di viaggio e lui è andato giù ha fatto il conduttore tv ha veramente poi montato quello che è un video diviso in due che è un film ha una storia e che come dire veramente poi e tra l'altro lui è stato molto 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 apprezzato non solo dai partecipanti al viaggio ma da tutti quelli che lui ha incontrato e intervistato c'è stato veramente uno scambio vero vero lì è abbastanza facile e allora sai che noi non ci facciamo a trovare impreparati mai tendenzialmente quindi sempre rimandandovi comunque al sito per vedere perché avete prodotto moltissime immagini veramente un film come diceva Moreno quindi vi invitiamo ad andarlo a vedere completo sul sito però due chicche ce le guardiamo insieme eccole qua il sole si sta alzando e questo è il nostro buongiorno dalla Repubblica Dominicana siamo nel mare dei Caraibi acqua caldissima cielo azzurro da qui inizia ufficialmente il nostro viaggio siamo a Boca Chica sud est dell'isola siamo presso l'hotel Hamaca B Live siamo arrivati ieri sera abbiamo cenato pernottato il nostro gruppo sta ancora riposando noi siamo già operativi anche perché non volevamo perderci questo primo risveglio caraibico tra poco colazione e poi partenza verso Santo Domingo capitale alla scoperta della città coloniale pranzo in un tipico ristorante dominicano e poi saliremo verso nord est dell'isola precisamente sulla penisola di Samana si riparte destinazione la capitale siamo in continuo movimento ieri siamo ripartiti da nord est abbiamo attraversato il parco nazionale di Losa Itizese e siamo arrivati a Bavaro in questo momento siamo sulla spiaggia del Gran Bahia Principe uno dei resort più belli al mondo tutti i comfort decine di ristoranti dedicati discoteca animazione e soprattutto il bellissimo mare dei Caraibi tra poco colazione e poi in visita all'ospora caffè Barcelo Bavaro da lì ripartiamo per un'escursione molto particolare andremo alla scoperta della flora e della fauna locali all'interno della laguna di Bavaro dove avremo anche la possibilità di provare l'emozione del kayak e insomma posso dire che io ti ho non invidiato peggio quando ho visto queste immagini le ho selezionate ho detto non ci credo guardalo guardalo lì ma noi in effetti oggi siamo qui perché stiamo cercando di mettere in piedi questo progetto con Roberta inviata nelle destinazioni presturse ma oggi è la giornata delle grandi novità vedi quindi ci saluterei e partirò a un certo punto ma tutto sono inconsapevole di questo torniamo alle tue insomma intanto ci sei stata tu là no? quindi noi ci teniamo a dire che questi sono due lanci solo per far vedere insomma un po' come è impostato in realtà è molto più lungo il lavoro noi abbiamo girato tantissimo perché quanti chilometri abbiamo fatto? 1500 chilometri praticamente in 8-9 giorni hanno fatto 1500 chilometri hanno girato veramente tutta la Repubblica Dominicana che poi è veramente un tripudio da un punto di vista non solo di spiagge eccetera ma di natura di interni di grandi emozioni di carattere anche storico culturale ambientale da questo punto di vista lui ha documentato tutto tra l'altro veramente ha una conduzione è bravissimo si certo noi di Presturso da questo punto di vista siamo veramente felici di poter avere come dire un collaboratore che ci mette veramente del suo a livello proprio di anima di conduzione di idee quindi cerchiamo di costruire cose insieme che abbiano un senso che abbiano anche una piacevolezza della visione lui in questo è veramente molto bravo riesce a trasmettere sensazioni in maniera molto soffice leggera e quindi facciamo vedere anche immagini molto belle cerchiamo di dare delle voglie di viaggio che vadano veramente che scardinino scusa no no però è chiaro il verbo il comune senso di un viaggio classico ai Caraibi forse uno degli aspetti più belli è che durante questa settimana io ero in collegamento con Radio Kiss Kiss dove documentavo in tempo reale e poi postavo delle fotografie sui social network grazie a un satellitare che mi faceva postare su Facebook sul Facebook di Presturso sulla pagina Presturso su Twitter quindi eri una voce in diretta su tutti i social comunque quello che vivevi veniva trasferito subito alla rete questo devo dire per chiudere che il bello di Presturso al di là che lavora bene eccetera 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 è che poi ha la possibilità di cioè stiamo cercando di creare questo tipo di situazioni che siano situazioni molto vicine a tutti noi al di là del vendere viaggi il bello del viaggio è cominciare prima di entrare in agenzia viaggi pensare un viaggio pensare una vacanza trovare indicazioni anche attraverso un filmato un video una trasmissione radiofonica visto che le immagini che stiamo guardando si riferiscono sempre comunque a quello che ha prodotto Danny in Repubblica Dominicana insomma abbiamo praticamente solo un minuto in 30 secondi perché consigliare la Repubblica Dominicana ci sei appena stato che cosa ti ha colpito maggiormente che magari la gente non conosce beh potrebbe sembrare banale però loro sono veramente felici perché vivono in un'atmosfera quasi protetta capito cioè io il sorriso è veramente dappertutto sono molto semplici e vivono alla giornata con molta serenità e te la trasmettono questa felicità sì assolutamente vero? è stato brutto il rientro immagino durissimo un pochino sì però la cosa che mi ha anche sorpreso è stato trovare una comunità italiana pazzesca ci sono moltissimi italiani che hanno scelto di andare a vivere in Repubblica Dominicana e allora per tutte le informazioni lo sappiamo vi abbiamo incuriosito forse fin troppo perché oramai avrete milioni di domande c'è il sito internet www.prestours.it io vi invito sempre a seguirli su YouTube su Facebook Twitter ci sono tutte le cose volevo solo fare un lancio per gli auguri di Natale di Buon Anno eccetera chiunque entrasse in un'agenzia di viaggio di Como Provincia dalla Lombardia dall'Italia e nominasse o il tuo nome o la trasmissione Angoli o Espansione TV diamo come dire omaggiamo i clienti di una settimana di parcheggio gratuito partendo da Malpensa ma caspita quindi come dire non è la fine del mondo ma è un invito è un bellissimo gesto un bellissimo regalo di Natale esatto quindi la macchina sarà parcheggiata a bella caldo poi sarà tolto caldo e tutti saranno felici beh non perdete questa occasione se steste cercando la vostra vacanza di Natale insomma dovete nominare o Roberta o Angoli o Espansione TV all'interno di un'agenzia di viaggio parlando di Press Tours grazie a Moreno Rognoni grazie mille a te Roberta grazie mille a voi grazie a Danny grazie Danny per essere stato con noi spero di ritrovarvi presto e buon Natale grazie altrettanto auguroni per tutto per il bene che vi vogliamo grazie davvero grazie anche a tutti voi che ci avete seguito con affetto anche oggi io vi ricordo che domani alle ore 12 saremo instancabili e puntuali qui a tenervi compagnia per un'altra ora e intanto il migliore augurio per un ottimo pomeriggio arrivederci